Un CDA al completo per presentare la 61esima edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura che si svolgerà a Lanciano Fiera dal 14 al 16 aprile. Quali le novità, Presidente Donato Di Campli? Le novità sono nell'elevata specializzazione del settore. Cerchiamo di attrarre i migliori player del settore agricolo con la presenza anche del Ministero dell'Agricoltura e soprattutto un padiglione dedicato ai servizi per tutti gli agricoltori per chiedere informazioni, finanziamenti o tutte le novità relative al settore. Il 20% in più di nuovi espositori tornano le case madri tra cui la Honda. L'inaugurazione con il Mastro Giurato ma non solo. Sì, cercheremo di dare un pizzico di novità all'inaugurazione della Fiera. Sarà presente anche il Ministro dell'Agricoltura Lolo Brigida ma abbiamo cercato di trovare anche sinergia all'interno della nostra città e credo che la figura del Mastro Giurato rappresenti davvero quell'imprinting necessario per dare un colore nuovo a questa nuova fiera. Già pronto il Wi-Fi gratuito nei padiglioni e da domani inizia la vendita online dei biglietti. Di Campli, affiancato da Alberto Paone e Bruno De Felice del CDA, dal sindaco Filippo Paolini, dall'assessore alle attività produttive Maria Ida Troilo, ha presentato alla stampa l'architetto Franco Feliciani, energy manager e il referente commerciale Bruno Diciano. Tra le novità un padiglione per gli stand istituzionali e la presenza del comune di Lanciano con i prodotti della tradizione. Sindaco Filippo Paolini, quindi torna anche un altro padiglione, una fiera innovativa e anche meglio collegata per far raggiungere appunto i padiglioni. Sì, la precedente amministrazione del consorzio ha lavorato per la ristrutturazione del terzo, finalmente c'è a disposizione e quindi ampliamo l'offerta. Quest'anno ci saranno una serie di servizi, ho sentito dal Presidente, non può che farci piacere, il polo fioristico regionale deve avere gli spazi, spazi adatti ad ospitare non solo la fiera di cultura che è il nostro fiore all'occhiello, polo fioristico regionale, ma deve ospitare anche altri eventi, quindi avere un padiglione di più è sicuramente funzionale. Potrebbe esserci anche il padiglione del lab vaccinale, ove lì non venisse aperta l'ab vaccinale.